Qui c'è un'operazione linguistica e culturale preoccupante perché voi scrivete i migranti ma non sono migranti, solo meno del 20%, come ha detto Fusani, coloro i quali hanno il diritto di poter avere lo status di rifugiato. Cioè lei sta criticando la formula, il gerundio oppure per dirla con le parole di Salvini oppure... Non è un gerundio, no, non casco nell'errore. Però il dato di fatto è che chi sta arrivando sul nostro territorio non scappano né da una guerra, né dalla fame, né dalla persecuzione, ma sono migranti economici, tradotto sono clandestini. Tant'è che tanto la Francia, quanto la Germania, quanto la Spagna, quanto l'Austria dicono chiaramente se dovete distribuire richiedenti asilo, quindi chi scappa da una guerra possiamo essere disponibili, non siamo disponibili ad accogliere tutto il resto. I 24.000 immigrati clandestini o profughi che verrebbero distribuiti in 24 mesi sono 1.000 al mese. Ci rendiamo conto che in Italia ne sbarcano 1.000 al giorno, allora, quindi il piano non regge. Stiamo, come avete detto giustamente voi... Molteni, se il Maroni non avesse fatto l'accordo di Dublino nel 2011, forse questo pasticcio non ci sarebbe. Allora, l'accordo, no, la convenzione di Dublino è del 1990, all'epoca la Lega non c'era ancora. Dublino 2 è stato sottoscritto nel 2002, quando in Italia, attenzione, sbarcavano 7.000 persone. Dublino 3, che da trattato diventa convenzione, viene sottoscritto il 26 giugno 2013, quando in Italia ne sbarcavano 150.000, governo Letta, ministro Alfano. Lì andava cambiato Dublino. La grave responsabilità è di non aver cambiato Dublino nel corso dell'evoluzione della gestione dei flussi migratori, perché nel 2002 c'era il 100% in meno rispetto agli immigrati che sbarcano oggi. Per cui la grande responsabilità, per cui cercare di tirare in mezzo Salvini, La Lega, Maroni, come alibi per coprire le responsabilità politiche di questo governo e di Renzi, non è accettabile. Al governo chiediamo di risolvere il problema e non di nascondersi dietro a Maroni e a Salvini. Va bene, allora, è tanto Maroni che dice ho messo il dito nella piaga. Grazie a tutti.